Galsi, qual è la posizione della regione rispetto alla politica che il governo ha instradato con i paesi frontalieri? Lo vediamo nel servizio di Maurizio Ciotola. La realizzazione del metanodotto sottomarino che unirà l'Algeria con la Sardegna sembra cosa fatta, come lo era vent'anni fa del resto. Certo è che le condizioni a contorno sono cambiate, ma oggi non ci soffermeremo su cosa ha reso possibile questa decisione, quanto sulla decisione in sé e le prospettive che essa apre per una regione come la nostra. Non per il Galsi ovviamente, ma per il ruolo che quest'isola rivendica da anni, per la sua naturale posizione geografica ampiamente sfruttata sul piano militare, ma non su quello industriale. Al Galsi saranno affiancate altre infrastrutture, cavi elettrici e delle comunicazioni che in prospettiva hanno un valore di investimento nettamente superiore a quello del metanodotto, ma anche il Galsi incomincerà quando sarà terminato a far fluire ampie quantità di idrogeno che nei paesi frontellieri potrà essere stoccato senza deficit di risorse. La politica estera del governo è mutata in senso propositivo, non il contenimento dei flussi migratori pagando pegno in momentanei e barcollanti personaggi delle istituzioni africane, quanto un investimento produttivo che farà crescere l'economia dei paesi del Nord Africa. E quanto una ventina d'anni fa, inascoltato, Gianni De Michelis cercava di far comprendere ad un Berlusconi sordo e trompio. Certo è che ancora una volta la Sardegna subisce in modo positivo scelte di calibro internazionale senza averne parte. Del resto non viene nella regione una classe dirigente in grado di intravedere il bene per l'isola se non una continua negazione di quel che è proposto con la gran cassa mediatica secondo le affinità politiche e l'interesse di pochi. Non siamo mai riusciti a far decollare l'idea di hub nel Mediterraneo, neppure sul piano turistico, se non raccogliendo l'elemosina che ogni tanto veniva elargita. Facciamo sì che il Galzi, le opere e la logistica che si affiancheranno diventino un'opportunità agendo in autonomia e coscienza. Grazie. Grazie.